Presidente, la Regione Friuli Venezia Giulia adotta delle direttive amministrative per garantire ai dipendenti regionali un'identità alias. Si tratta di ampliare dei diritti, dei diritti della persona. Nel caso in cui vi sia un'eventualità in cui un dipendente regionale, ma diciamo meglio una persona, voglia che sul luogo di lavoro venga riconosciuta la propria identità percepita, noi abbiamo previsto delle linee guida, un procedimento definito, insomma diamo delle risposte e colmiamo un vuoto legislativo. Quindi un diritto in più che si aggiunge nell'alveo della parità di genere, dei diritti alla persona e credo che per questo ci sia sempre la necessità di procedere, non è vero che ci sono altre priorità. Bisogna rispettare i diritti, ampliarli e tutelare tutte le persone.